Presidente della regione siciliana Rosario Crocetta ha incontrato questa mattina la stampa locale presso il Museo archeologico regionale di Gela per discutere sul tema degli interventi di valorizzazione dell'area museale e archeologica di Gela. Oggi annunciamo la costituzione del gruppo di lavoro che si coordinara questi progetti che vedranno oltre a importanti figure dell'amministrazione regionale vedrà anche la partecipazione di personalità nel campo dell'archeologia di livello mondiale. Presidente una volta che la nave sarà assemblata ed esposta avete pensato anche ad una strategia comunicativa per promuovere questa immagine nel mondo? Ma queste risorse sono incardinate nel protocollo intesa questa parte, proprio la parte che serve a fare lo start up, i soldi li mette la regione per recuperare la nave come è stato fatto e poi la parte comunicativa quella che serve per lo start up immediatamente con le risorse. Però si comunicarà da sola ma l'operazione più grande che stiamo facendo insieme alla nave è anche quella di costruire, abbiamo costituito già il gruppo di lavoro a Gela. Il gruppo di lavoro che dovrà determinare il progetto per la ricostruzione del tempio G nelle dimensioni vere, nei colori, nelle caratteristiche che aveva all'epoca, presentando un unico mondiale nel terzo millennio di un tempio come poteva essere, come era, 2600 anni fa. Capite bene che questo diventa insieme alla riconversione della green economy diventa il rilancio turistico della città di Gela in termini di flussi eccezionali. Accanto a questo vogliamo anche guardare alla contemporaneità, quindi mi piacerebbe realizzare il museo dello sbarco perché Gela è stata la prima città d'Europa che si è liberata dal nazismo e dal fascismo. Questo evento viene sottaciuto, non viene valorizzato, però credo che invece in pochissimo tempo si potrebbe realizzare questo museo creando anche un'attrattiva, soprattutto nei turisti americani, come ho visto che arrivano a centinaia di migliaia l'anno in Normantia per assistere, per guardare i musei dello sbarco, ma anche per, sono stato nelle manifestazioni in Normantia, c'erano migliaia e migliaia di persone che partecipavano a tutte le manifestazioni, tanti turisti che facevano una fila nei musei e anche questo è un aspetto, cioè Gela lancia una diversificazione nuova, di tipo nuovo, rilancia la sua immagine, rilancia la sua economia, riconverte l'industria e la regione ha e avrà un ruolo centrale.